allora un papà con due figli un ottimista e uno pessimista decide allora per riuscire a capire a cercare di capire per quale motivo questo pessimista non riesce mai a godere di niente a natale fa due bei pacchetti li mette sotto l'albero di natale e al pessimista gli regala un treno bellissimo meraviglioso al all'ottimista invece mette in un pacco una merda grande merda chiude i pacchetti arriva natale i due ragazzi aprono e il pessimista vede questo treno che meraviglioso dice allora allora gli dice il papà che hai trovato trovato un treno ma è meraviglioso non sei contento sì però il treno poi mi si rompe mi si rompe ho capito ma è un giocattolo si rompe poi sì ma poi c'è il passaggio a livello magari uno va a sbattere poi si rompe insomma padre disperato andiamo da questo ottimista che è meglio l'ottimista apre vede questa grossa merda dice te te sei contento sì io so con te ma che ha portato a te a me mi ha portato un cavallo ma ancora non l'ho trovato no Grazie a tutti